Il cantiere aperto oggi e qui nel territorio di Francavilla Marittima, conferenza stampa e avvio dei lavori per la realizzazione del terzo megalotto della strada statale 106, 38 chilometri che attraverseranno otto comuni e tre regioni, Calabria, Basilicata e Puglia, un tratto di strada conosciuto per le troppe morti che diventerà volano di sviluppo per il territorio. Questa opportunità che darà slangio e lavoro soprattutto per anni a tutto il territorio non potevamo rischiare di perdere. Per i dati tecnici, doppia carreggiata, due corsie per senso di marcia e quattro svincoli, questo è il futuro, nel presente significa occupazione. Un lavoro di questo tipo significa per questa terra 1500 posti di lavoro subito, ma significa anche futuro, significa speranza. Un cantiere simbolo come quello di Genova per l'Italia che esce dalla pandemia. Il megalotto 3 della Ionica tra Sibari e Roseto Capospulico è veramente l'Italia che riparte. All'incontro il presidente della regione Santelli che è ricordato come l'infrastruttura farà tornare alla centralità la nostra storia e ricorda Sibari, capitale della Magna Grecia, l'appello poi alla semplificazione e al rilancio della nostra terra. Se non lavoriamo oggi per la squadra Italia e permettetemi a casa qui di dire per la squadra Calabria, se non ora quando? A chiudere i lavori il ministro Paola De Micheli che ha annunciato più servizi per la Calabria. Ripartirà i Sibari Milano e partiranno le due coppie Reggio, Reggio Torino, Torino Reggio, le due coppie di treni che avevamo annunciato, non ne abbiamo ancora aperti ovviamente perché non ci sono, non sono nemmeno autorizzati i passaggi interregionali delle persone, siamo in una fase di emergenza, ma non appena ci sarà la possibilità di spostarsi ci sarà. L'avvenire di questa terra a concluso dipende dai calabresi. Io sono convinta che il futuro non sia un destino già scritto, non ci credo e non mi convincerà mai nessuno che è così, possono esserci le coincidenze, ma il destino della Calabria non è già scritto. Dipende da voi, io sono qui per dirvi che dipende da noi.